Oggi voglio consigliarvi di vedere una serie tv italiana su Amazon Prime che si chiama The Bad Guy con protagonisti Luigi Locascio e Claudio Pandolfi. Attualmente sono disponibili i primi tre episodi e venerdì 15 usciranno gli ultimi tre episodi di questa serie. Troviamo Luigi Locascio che interpreta un pubblico ministero che combatte contro la mafia e a un certo punto verrà accusato lui stesso di essere un mafioso e per questo motivo verrà processato e condannato. La svolta però di questa serie è che lo ritroveremo dall'altra parte della sponda, cioè quindi passerà da essere un pubblico ministero a essere tutt'altro. Mentre invece Claudio Pandolfi interpreta la moglie del pubblico ministero. Che dirvi, a me questa serie sta piacendo tantissimo, è girata veramente bene ed è comunque una serie tv italiana alternativa, girata in maniera molto diversa rispetto alle altre serie tv italiane alle quali siamo abituati, quindi insomma io vi consiglio di vederla per questo motivo, per il tipo di storia, per come viene raccontata e poiché insomma che dirvi, Luigi Locascio e Claudio Pandolfi sono veramente due attori straordinari, bravissimi, e quindi chapeau complimenti a questi due grandissimi attori. Per quanto riguarda il personaggio di Claudio Pandolfi, secondo me, nei prossimi episodi verrà approfondito un po' meglio. Comunque scrivete nei commenti se anche voi state guardando le serie e se vi sta piacendo. Grazie.